Tante le reazioni e le voci che si sono sovrapposte a seguito dell'ordinanza di sgombero del mercatino etnico di Pescara. La prima reazione arriva dal rappresentante dell'ufficio immigrazione CGL che dalle primissime ore del mattino ha presidiato il palazzo del comune in attesa di un confronto con il sindaco. Una cosa vergognosa, non avremmo mai aspettato questo comportamento e questo mercato sta là da vent'anni, tutte le giunte comunali destra e sinistra sono passate. Purtroppo pensavamo come se una giunta amica poteva fare questo sgombero. Comunque vogliamo la soluzione, sono più di 100 persone che hanno l'autorizzazione a fare quel commercio a volante con le loro famiglie. Vogliamo vedere come possono vivere loro e anche la famiglia. Noi stiamo cercando di tenere a badda per non succedere a nessuno. Tanto è vero, ieri quando sono venute anche le polizie abbiamo cercato di non fare nessuna resistenza. Ma era pacifica, essendo una comunità pacifica vogliamo una soluzione da sindaco. Anche Sel fa sentire la sua voce. Dopo aver assistito tutta la notte all'operazione in corso, il pensiero ora vale attività necessarie a predisporre una nuova area dedicata al commercio ambulante. Noi denunciamo veramente, siamo abbastanza allibiti di quello che è accaduto questa notte. Per noi è una ferita molto forte che la pescara della solidarietà e i ragazzi senegalesi assolutamente non si meritavano. E credo che loro abbiano dato una grandissima prova di civiltà. Spero che questa prova di civiltà che hanno dato questa notte sia apprezzata non solo dalla politica e dalle istituzioni ma dall'intera città. Durissima la replica di rifondazione comunista dove Maurizio Acerbo sbandiera manifesti che paragonano il sindaco PD Marco Alessandrini a leghista Matteo Salvini. L'amministrazione di Pescara fa quello che Salvini dice che si dovrebbe fare. Alessandrini si è comportato come nessun sindaco di Pescara ha fatto di centrodestra o di centrosinistra. E' lui inadempiente perché non ha fatto quello che si era impegnato a fare, cioè allestire una sistemazione alternativa al mercatino senegalesi regolarizzando la situazione come si era detto. Laddove ci sono dei reati riguardi i senegalesi o italiani le persone responsabili vengono arrestate se sono arrestate, multate se devono essere multate, le merci sequestrate se devono essere sequestrate. E' evidente che una situazione improvvisata da vent'anni non va bene. Io voglio ricordare che i senegalesi arrivarono sull'area di risulta perché ce li mise la giunta di Pace e di Nino Sospiri. Infine il centrodestra che solo due giorni prima aveva convocato una conferenza per sollecitare l'esecuzione di un'ordinanza emessa l'agosto scorso. In questo paese tutti hanno gli stessi diritti se assumono i medesimi doveri, gli stessi impegni degli italiani. E' impensabile per quanto ci riguarda che un italiano venga sfrattato dal mercato perché non paga la COSAP o la TARI e a chi non è italiano si permette di occupare abusivamente il solo pubblico senza licenza commerciale.